Mi trovo a Gurga, frazione di Stio Cilento, per incontrare Callorina Trotta, componente della Prologo di Stio, la quale ci parlerà della festa del fagiolo Regina di Gurga, che si terrà a Gurga, frazione di Stio, il 28 e il 29 dicembre 2018. Sì, dopo tanti anni siamo riusciti, sperando di far sì che questa festa venga ripresa, si svolge il 28 e il 29 dicembre a Gurga di Stio. Il 28 abbiamo il Val Calore, gruppo itinerante e poi si servirà il Daniele Botticchio, il cantautore cilentano. E poi il 29 ci sarà Peppe Cirillo e poi in prima serata ci sarà un convegno sul slow food del fagiolo Regina di Gurga. E poi ci saranno, per le vie del paese, degli stand gastronomici, quindi vi aspettiamo numerosi a Gurga. Eccomi qua, curiosandone i piccoletti di Gurga, mi trovo in compagnia della signora? Angelina. Angelina, il cognome? Il Vande. Signora Angelina, io sono qua perché vogliamo invitare tutti i telespettatori a venire il 28 e il 29 dicembre a che cosa? A rifagiovi. La festa di rifagiovi. La festa di rifagiovi perché se non ci vengono non si fa. Aspetta a Gurga al 28 e il 29 dicembre, ha rifagiovi della regina di Gurga, vi aspetto, vi niente. Ciao! 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 Grazie a tutti.